Video 96. Abbandoniamo l'Allemann Classic per passare alla mia grande passione, il rally storico. Oggi ci vediamo alcune immagini, non sono dire il vero molte, del rally 2 Valli del 2008. Campione assoluto, quindi vincitore, unico assieme al grande Pirollo. Buona visione! Campione assoluto, quindi vincitore. 4-3 0rodu ruota Normalmente Anche Sì come pensava io prendo alto in due macchine lo chiamerò ma anche nella tua perché il nome delle tue foto la sua è una a monte carlo che dovrà dare via la sua è una a monte carlo ... 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 guarda come gira c'è una balata se vuoi andare lì per fare il tuo o se vuoi fare il gare? l'85 appena lui mi dice si lo facciamo bene se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale auto epoca nord est mettete se volete essere aggiornati su ogni nuovo video pubblicato anche il simbolo della campanellina e se vi è veramente piaciuto anche un bel mi piace ciao e grazie a tutti